E buongiorno a tutti, buongiorno buongiorno, buongiornext, come mi ricordo sempre il buon board game 101 e buongiorno a tutti quanti, sì sì sono qui gli zombie ma anche le notizie e magari le due cose oggi troveranno un punto d'incontro, chissà perché, chissà come mai, ma a quanto pare c'è un re di vivo amore per gli zombie a quanto pare anche nel mondo dei giochi da tavolo, chissà, chissà da cosa è portato di nuovo questa passione sembrava un po' scemata negli ultimi anni, bisogna ammetterlo ma chissà, forse l'ultima stagione di The Walking Dead ha riportato un pochino in auge anche il tema zombie, io non mi lamento perché come sapete con gli zombie tutto è meglio e avremo occasione di parlarne ancora, ma intanto facciamo un po' di salutoni alla chat a Tania, Michele, Lizzyko, Cuore Granata, Board Game 101, Lali Kiki, il Pabis, Luke, Sasha, Tortellino, Melks che sbircia tra un cliente e l'altro buongiorno a tutti quanti, a Turgan, buongiorno lo zombie è come il cacio, sta bene un po' su tutto, sono molto molto d'accordo con questa tua informazione effettivamente ci sta, ne parlavamo anche lunedì scorso in Next di quanto ci sarebbe stato bene in Orlean una meccanica zombie se vi ricordate e quindi anche quest'oggi vedrete che avremo modo di parlarne ancora ciao anche a Remo e Alibi, ciao, benvenuti, buongiorno, buon lunedì a tutti quanti lunedì che ammetto è partito un attimino diesel proprio, è partito molto rallentato questa mattina perché è trascorso un bellissimo weekend in montagna con amici, concluso ieri sera ancora con una festa di compleanno insomma, non abbiamo più l'età per fare tutti questi bagordi, per fare tutta questa festa, queste mangiate e prendere sole, caldo, stare davanti alla griglia anche, è stato quanto impegnativo non vi nego che sono tutto spionato, tipo qua ho le spalle che bruciano tantissimo stanotte, era un termosifone, buttavo fuori calore all'inverosimile e buona settimana anche a te Morenz, ciao, ben arrivato quindi partito un pochino diesel ma adesso mi sto riprendendo decisamente anche grazie a tutti voi, grazie alla vostra presenza qui siete sempre in tantissimi e la cosa mi fa estremamente piacere vero il pubis, non abbiamo proprio più l'età, non abbiamo proprio più l'età gli anni avanzano e si fanno sentire, uno si sente sempre un giovinotto d'altronde come dice anche il buon Bernard Shaw, non invecchia chi, cioè non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia quando si smette di giocare nonostante si giochi un sacco, devo mettere che però un pochino gli anni li sento tra l'altro non mi sono preso neanche dell'acqua, quindi oggi sarà ancora più più dura, sarà ancora più dura non potendomi dissetare e ciao a Kijunque, no Kijunque, ciao Kijunque, ben trovato qui, grazie mille per esserci grazie davvero e ciao anche a Irtemis ma cosa facciamo qui in Next ogni lunedì alle 12.30? si parla di novità, di ciò che vedremo nei mesi a venire sul mercato sia, chiunque, perfetto, sia nei nostri negozi, sia localizzati in italiano ma anche, magari no, magari anche solo titoli che saranno presentati all'estero e che per il momento non sia ancora notizia di qualche release italiana ma io già inizio a parlarvene con primi spoilerini, prime anticipazioni anzi oggi ritorneremo anche su un titolo di cui abbiamo parlato settimana scorsa perché nel corso della settimana hanno rivelato qualcosina in più e potremo bullarci tutti quanti perché ci abbiamo preso ci abbiamo preso, secondo me, su alcune cose e adesso andremo a vedere di che gioco sto parlando e di quali novità hanno aggiunto ma non parliamo soltanto di giochi non parliamo soltanto di giochi da tavolo, libro game, giochi di ruolo ma parliamo anche magari di qualche notiziola così un pochino più side relativamente all'uscita proprio di nuovi giochi quindi partiamo subito perché di notizie ce ne sono davvero tantissime infatti la prima news che vi voglio dare riguarda questo Magic Mountain titolo di cui già avevamo parlato qualche settimana fa perché era uno dei tre finalisti del Kinderspiel des Jahres ovvero il miglior gioco per bambini il premio il miglior gioco per bambini che viene assegnato in Germania ed è stato già per l'appunto qualche giorno fa decretato il vincitore che è questo Magic Mountain dell'Amigo il fatto che abbia vinto il Kinderspiel è un'ottima cartina tornasole del fatto che verosimilmente lo vedremo anche in edizione italiana e il gioco per 2-6 giocatori dai 5 anni in su ha vinto secondo me meritatamente o meglio tra i titoli che c'erano finalisti era quello che anch'io mi aspettavo un po' più vincitore un pochino più vincitore perché se vi ricordate bene è questo gioco fatto su un piano inclinato nel quale noi dovremmo far arrivare le nostre streghe buone le nostre fatine alla fine di questo percorso senza però essere acchiappati comunque senza far terminare il percorso alle streghe cattive prima di noi ciao intanto anche a Manuele buongiorno a te, ben arrivato la particolarità come dicevo è quella che si gioca per l'appunto su un piano inclinato si faranno rotolare delle biglie colorate prese da un sacchetto lungo questo piano inclinato cercando di non far però mai cadere le streghe che altrimenti avanzeranno lungo il percorso e arriveranno alla fine prima di noi quindi dovremmo cercare di far arrivare 4 delle nostre fatine prima di aver fatto arrivare 3 delle streghe cattive ha vinto secondo me appunto meritatamente perché ha un bellissimo colpo d'occhio è bella la meccanica che comunque va anche a ricordare un po' i giochi della nostra infanzia un po' quei flipper in cui si faceva cadere la pallina che andava rimbalzando di qua e di là un po' come anche in The Wall salutiamo anche Gerry Scotti nonché come anche in quel gioco in cui Undici in quest'ultima stagione cerca di concentrarsi per far finire il tondino al numero 3 senza mai riuscirci ecco mi ricorda un pochino quel principio di gioco vincitore meritatissimo adesso come sapete poi a metà luglio il 16 di luglio verranno annunciati anche lo Spiel des Jahres il Kenner Spiel des Jahres ovvero il miglior gioco in Germania il miglior gioco da tavolo il miglior gioco per esperti sempre facendo ovviamente riferimento al mercato tedesco e quindi alle uscite di quest'anno in Germania evento che sarà come sempre catalizzatore di attenzione e anche lì cartina torna sole comunque dei titoli che più avranno appeal sicuramente nei mesi a venire nonché anche un ottimo metodo per le case editrici di sapere quali titoli andare a puntare un po' di più perché la vincita di un premio così prestigioso sicuramente ha anche tutto quanto il suo ritorno ciao a Dungeon Store Bologna e come avevamo narrato proprio nella live in cui avevamo parlato in direttissima perché avevano dato le nomination la mattina stessa e proprio nella puntata di Next vi avevo chiesto, avevamo fatto un sondaggino dicendo ma vorreste una live in cui andiamo a vedere in diretta chi vincerà lo Spiel e il Kenner Spiel? l'avete detto di sì e quindi abbiamo organizzato qualcosa in tal senso quindi continuate a seguirci se ancora non l'avete fatto lasciate un bel follow perché il 16 di luglio verosimilmente mi vedrete in una puntata speciale di Next in cui andremo assieme a vedere chi sarà il vincitore dello Spiel e del Kenner Spiel già avevamo fatto alcuni pronostici ne faremo ancora assieme proprio in quell'occasione e quindi andremo a vedere quale sarà il secondo e il terzo titolo che andranno poi ad affiancarsi a Magic Mountain proprio per questo premio il più prestigioso si può dire tranquillamente in ambito ludico legato per l'appunto in questo caso ai titoli usciti in Germania ma che avranno ovviamente una ricaduta su tutto quanto il mercato globale e mondiale quindi segnatevi la data fate il tifo per noi se vi va se ancora non l'avete fatto vi ricordo anche di abbonarvi al nostro canale perché abbonandovi vi ricordo che avrete la possibilità oltre di vedere il nostro stream senza l'invasione della pubblicità vi ricordo che vi permette anche di accumulare più in fretta i nostri dungeon points e quindi ottenere e quindi ottenere anche delle ricompense delle gratificazioni diciamo così ovvero la possibilità grazie ai 5000 dungeon points che vi verranno accreditati immediatamente se vi abbonerete e lo potete fare gratuitamente con Prime vi permetteranno di sbloccare ad esempio un mese di abbonamento VIP sul sito di dungeon dice.it piuttosto che spedizioni gratuite oppure scontistiche varie e tra l'altro ne approfitto anche per ricordarvi che sono ancora in corso sono partite proprio in questo weekend ma sono partite qualcosa tipo 1300 titoli in super sconto di nuovo delle offerte pazzissime oltre a tutte delle offerte partite ancora questa mattina dedicate ai giochi horror e quindi andate a fare un salto sul sito perché ci sono veramente un sacco di titoli interessanti in super mega sconto e quindi non perdeteveli assolutamente ma chiusa questa piccola parentesi che ci tenevo comunque a ricordare ritorniamo alle nostre notizie perché dopo la vincita per l'appunto di Magic Mountain c'è un'altra notizia che ho scovato che mi è piaciuta molto e che ho intenzione di parlarvene rivolgendomi soprattutto a tutti quei giocatori ad esempio un certo tortellino bolognese che vedo in chat che giocano principalmente da soli giocatori solitari a cui piacciono i giochi che abbiano almeno una modalità in solitario anche se non sono esclusivamente magari pensate quella di solitario perché c'è una notizia dedicata proprio a voi di un trend particolare che è stato individuato in base ai giochi caricati comunque su Borg & Geek che è questo mega database americano che va a raggruppare vari giochi tutti quanti i giochi diciamo che escono in commercio su tutto quanto il mondo ed è da cui è uscito questo trend questa grafica molto molto carina che ci tenevo a condividere con voi in cui vanno a paragonare appunto lungo l'arco del tempo fino ad arrivare al 2021 non hanno ancora inserito i giochi del 2022 visto che si è arrivati a cioè deve ancora terminare l'anno Alba perché non ci fanno live sulle offerte ma l'altra volta mi ha venuto la foglia e il masochista ciao George non ci abbiamo pensato sono onesto le offerte tra l'altro sono in scadenza mi sembra che scadano domani o comunque siamo lì diciamo che magari se è una cosa che può interessare che può piacere si può assolutamente organizzare magari non in questa occasione perché devo ammettere sono state una tornata di sconti che non sapevamo cioè io non sapevo almeno mi ha colto mi ha colto di sorpresa e quindi non abbiamo avuto tempo e modo di organizzarla come invece avevamo fatto per il Celebration Day ma secondo me magari in qualche occasione particolare tipo il Black Friday o magari tipo qualche occasione così assolutamente ci sarà modo per approfondire magari farvi scoprire tra i giochi super scontati super in offerta magari qualche chicca un pochino più particolare che può interessarvi ma ritorniamo a questo grafico perché che cosa vediamo da questo grafico che nel 2021 per la prima volta da sempre dal 1999 almeno anno da cui hanno iniziato a tenere traccia di questo valore hanno segnato sull'asse delle Y quanti giochi il numero di giochi usciti pubblicati in cui avessero un minimo un 1 più 2 più 3 più ovvero giocabili minimo in due giocatori minimo in un giocatore minimo in tre giocatori e si vede questa tendenza che finalmente ha visto un superamento proprio nel 2021 dei giochi che abbiano anche già al loro interno una meccanica per giocare in solitario quindi magari delle regole specifiche magari dei componenti in più dei bot o comunque proprio delle modalità in solitario specifiche che proprio nel 2021 ha visto superare i giochi che abbiano partono da un minimo di due giocatori che è stato quello che ha avuto il trend come vedete la linea rossa in alto migliore diciamo che anche questo ha avuto una crescita negli ultimi 20 anni comunque molto molto alta avendo poi quel picco nel 2017 per poi dopo scendere chiaramente vedete che quella discesa che c'è non è dovuta non è impattata a altri elementi se non probabilmente al fatto che nel 2020 ci siano state meno release meno uscite come sapete c'è stato giusto una cosina chiamata pandemia in mezzo che ha creato non pochi problemi a molti però è bello vedere come ci sia stato questa tendenza questo voler andare comunque sempre ad aumentare il numero di giocatori minimo anche al singolo giocatore indice del fatto che comunque nel nostro settore per quanto i giochi da tavolo o giochi di società siano giochi che come dice il nome stesso pensati per essere giocati assieme ad altre persone si è vista questa tendenza c'è stata anche la release di pandemia in nord america assolutamente sì il fatto che proprio la volontà il mercato comunque gli stessi giocatori abbiano chiesto la possibilità di avere sempre più giochi giocabili da soli trend che infatti come vedete era già in crescita anche pre pandemia quindi non è stata una cosa portata soltanto dalla pandemia dal vari lockdown dal trovarci chiusi in casa da soli ma proprio un'esigenza dei giocatori che dal 2021 e vedremo nel 2022 il trend come sarà rimasto hanno superato quelli giocabili minimo in due giocatori perché effettivamente io mi ricordo di un 12-13 anni fa quando ho iniziato a giocare che magari la stessa cosa che si sta facendo adesso sulle modalità in solitario quindi magari con gioco per 2-4-2-5 giocatori con anche la modalità in solitario sviluppata magari da David Turz che è uno dei designer più famosi più noti proprio per sviluppare giochi in modalità solitario era invece una prerogativa proprio del gioco a 2 dove fino a un po' di anni fa l'inserire buongiorno a te Dungeon Store di Savona buongiorno buongiorno l'inserire invece magari una modalità per poter giocare in 2 era già un po' l'eccezione alla regola era magari già qualcosa di inserito a posteriori per permettere comunque di giocare in in due giocatori invece adesso si è appunto diciamo stabilizzato il fatto che tutti i giochi siano giocabili almeno in 2 buongiorno anche a Nihile Paleos e invece i giochi che permettano di giocare anche in solo sono sono cresciuti ciao Lentonx buongiorno ebbene sono contento che sei riuscito ad ad incrociarmi live grazie mille mi fa piacere c'ho anche super chicca e Pivore Game dice personalmente da solo preferisco fare altro assolutamente sì nessuno sta dicendo che guai a voi se non giocate in solitario noi per primi io e Vale come già vi ho narrato in più occasioni anche nella primissima puntata di Giochi e Giullare il format del martedì sera tra l'altro domani sera alle 21 io e Vale vi aspettiamo per la nostra live fatta di aneddoti e consigli effettivamente noi anche non ci troviamo quasi mai a giocare da soli se non in occasioni veramente veramente rarissime quindi ci sta che come Happy Board Game non tutti abbiano la passione del giocare in solo però probabilmente il mercato i giocatori o meglio la maggior parte dei giocatori sta chiedendo qualcosa di diverso e questo trend forse lo va anche un pochino a rappresentare ho trovato questa notizia e mi piaceva condividerla assieme a voi ma passiamo ancora avanti perché c'è un'altra news di cui vi voglio parlare che onestamente mi ha non mi ha stupito però per me poi ora ditemi anche voi la vostra ma per me lascia un po' il tempo che trova perché ritorniamo a parlare di Ark Nova di cui già avevo parlato quando un mesetto fa insomma comunque quando stava per arrivare sugli scaffali titolo che piace e tanto giocato nei gruppi facebook si vede solo più Ark Nova quindi sicuramente un titolo che ha saputo fare breccia nel cuore di molti che noi anche abbiamo giocato ci è piaciuto pur avendo una durata inconsistente ecco che probabilmente è stato l'aspetto che un po' più c'è pesato non tanto per la durata in sé quanto per il fatto che secondo me un round in più un round in meno in Ark Nova non cambiano granché la solfa ciao Kyla ciao ben arrivata grazie per esserci comunque al di là di ciò Ark Nova è arrivato è interrato nella top 10 di BGG essendo al nono posto almeno vado a controllare ma dovrebbe ancora essere al nono posto o è salito ancora no è al settimo posto ragazzi forse era meglio che lo controllassi prima era al nono posto fino a venerdì e adesso è salito al settimo posto addirittura signore e signori cosa vuol dire cosa vuol dire che Ark Nova sia al settimo posto della classifica di BGG vuol dire che gli utenti del sito Borg & Geek ovvero questo grande database americano di cui vi parlavo prima dove c'è la possibilità di votare tutti quanti i giochi inseriti nel database il temismo mi provoca preferisci più la durata di Ark Nova o di All'Artao sicuramente di All'Artao che è molto più veloce e molto più giocabile assolutamente per quanto abbiano entrambi un setup molto lungo perché le cose sul tavolo di Ark Nova come vedete sono davvero tante noi gestiamo il nostro zoo avremo la nostra plancetta su cui andremo a costruire i recinti le varie attrezzature del nostro zoo e giocando carte che rappresentano i vari animali andremo a riempire i nostri recinti e cercando di fare punti vittoria fondamentalmente dati dati dalle nostre dati dalle carte che giocheremo e cercando anche di fare dei progetti che saranno tipo degli obiettivi che ci daranno punti con una gestione delle azioni molto particolare molto bella ma di cui già vi ho parlato e nel caso vi potete recuperare quelle puntate di Next dicevo cosa vuol dire che Ark Nova è adesso in settima posizione su Burning Geek vuol dire che per gli utenti di quel sito ovvero prevalentemente giocatori hardcore americani è un titolo che piace molto che ha preso dei bei voti e che quindi si trova molto molto in alto il fatto che sia settimo in classifica un gioco uscito 2021 ma che è uscito alla scorsa fiera di Essen quindi in realtà è uscito da 7-8 mesi 7-8 mesi più o meno si trova comunque lì ha superato Star Wars Rebellion Silvia sappilo sappilo gioco comunque del 2016 un passo sotto Twilight Imperium quarta edizione il gioco del 2017 ma come tutte quante come questa classifica di BGG io l'ho già detto in tante occasioni non mi stancherò mai di dirlo secondo me lascia sempre un pochino il tempo che trova ciao Andrea Pelo non tanto perché non sia una reale cartina torna sole delle preferenze dei giocatori nordamericani molto hard game hardcore a cui piacciono giochi lunghissimi e molto complessi ma proprio perché è una classifica basata su una fetta di pubblico molto 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 piccola molto stretta e molto specializzata che va benissimo guardandola con quegli occhi uno capisce perché in prima posizione c'è Gloomhaven poi c'è Pandemic Legacy c'è Brass Birmingham c'è Gloomhaven Jaws of the Lion Terraforming Mars Twilight Imperium Ark Nova Star Wars Reveillon Gaia Project Spirit Island questi sono i primi dieci di questa classifica ok va bene tu puoi dire ah vabbè ma è uscito da pochissimo e ha già scalato una classifica comunque anche se molto settoriale anche se molto di una nicchia comunque del nostro settore ovvero gli hard gamer super appassionati americani e in minima parte anche di altre parti del mondo ma comunque super mega appassionati vuol dire comunque un gioco che in quella fetta di giocatori lì ha preso tanto senza ombra di dubbio senza ombra di dubbio sì ma il fatto anche che in così poco tempo l'abbia scalato sicuramente è perché è un buon gioco non sono io qua a negarlo assolutamente in quel piccolo segmento lì ovvero i giochi dedicati agli hard gamer è sicuramente un gioco di valore ma finisce un po' lì secondo me cioè la valenza che gli si vuol dare legata alla consapevolezza che è stato votato comunque da hard gamer principalmente in americani qualcosa in germania qualcosa in italia qualcosa in spagna qualcosa in francia ma comunque sempre principalmente hard gamer notizia che ci devo dare poi divento un po' caustico io su queste cose me ne rendo conto e tanto ditevi anche voi dalla chat cosa pensate se se lo merita se non se lo merita se seguite questa classifica se ve ne frega qualcosa che si è arrivato già settimo e anzi ebbe scalato due posizioni in tre giorni perché veramente a venerdì era ancora nono ho detto già devo poi guardare prima della live mi sono dimenticato e scopriamo insieme che è arrivato settimo che ve ne pare a voi ve ne fa qualcosa non lo so era comunque una notizia di rilievo che era imbalzata tanto e quindi ci tenevo comunque a darvela anche in next perché non si parla solo di giochi in uscita ma parliamo anche un po' di giochi in uscita fatemi sapere voi intanto anche dalla chat che cosa ne pensate di questa di questa news ma veniamo a vedere un po' dentro il merito della classifica però personalmente lo apprezzo moltissimo assolutamente sì Kyla e ci sta io anche per primo l'ho detto che comunque mi è mi è piaciuto e quindi quindi assolutamente ci sta ma ritorniamo noi perché vi ricordate che vi avevo parlato di un gioco di un gioco sulle macchine da formula 1 fatto dallo stesso autore di flamme rouge che usciera con days of wonder ma di cui non si sapevano ancora tante informazioni ecco che qualche informazione è saltata fuori ed eccola qua la prima informazione che vi vengo a dare il fatto che queste saranno le carte con cui si giocherà ora penso che ogni giocatore avrà un mazzetto del proprio colore ci sarà quella carta la rossa da cestinare della macchina che ha preso fuoco quando l'avremo messa troppo sotto sforzo non lo so non lo so ma a vedere un po' i simboletti sulle carte che avranno dalla 1 alla 4 l'accelerazione secondo me la 5 che sarà quando hai messo il turbo mi ricorda come anche molti commenti il nome del gioco non si sa ancora in Pecorator purtroppo non si sa ancora ciao Johnny si bellissime le illustrazioni assolutamente però comunque vuole richiamare il mondo della formula 1 anni 50 e ciao anche a squilibrio quello che ci dicevamo già l'altra volta dalle primissime immagini che erano emerse ovvero con questa mappa così un po' un po' che ricorda un po' quella di Flam Rouge se vedete con le macchinine che andranno in scia potranno fare dei sorpassi ok e qua vedete c'è un print and play praticamente del gioco secondo me sarà molto simile nelle meccaniche a Flam Rouge ma con delle aggiunte perché se guardate bene questa immagine nella foto in alto ma anche in parte nella foto in basso sotto al righello abbiamo gli ammortizzatori abbiamo le ruote abbiamo la benzina che saranno comunque cose che noi gestiremo nel nostro turno e ora non si vede bene ma la plancetta dei giocatori che deve essere quella sotto queste carte di questo print and play avrà più spazi quindi probabilmente noi andremo o a programmare delle carte che poi man mano shifteranno ed entreranno in gioco ma non credo siccome nella slot a destra che si vede c'è un cestino secondo me la meccanica sarà sempre un po' quella del deck building quindi dove noi magari per poter cambiare marcia accelerare mettere il turbo che so io o magari in curva in frenata o che ne so dovremo anche sono in quarta marcia e voglio scalare in seconda perché in mano c'ho solo una seconda magari mi devo giocare assieme anche delle ruote dei pneumatici che consumerò per poter riuscire a fare questa frenata quindi verosimilmente sarà un gioco essendo anche days of wonder e conoscendo gli autori che sono gli stessi di flam rouge di bloom town asger asger garmerund che che vanno fondato assieme la sidekick games secondo me sarà molto molto semplice nelle meccaniche perché comunque essendo days of wonder avrà sicuramente un piglio molto family come gioco però probabilmente avrà quel qualcosina in più rispetto a flam rouge titolo che a me piace tantissimo che aveva vinto anche il gioco dell'anno meritatamente assolutamente anche qua qua in italia e qui abbiamo qualche info in più quindi non ci saranno solo le carte che determineranno la nostra velocità come era già anche in flam rouge ma abbiamo alcuni elementi in più la benzina cosa ci farà fare il fuel non lo so probabilmente dovremo averne per poter giocare certe carte per poter mettere il turbo chi lo sa morenz days of wonder è una garanzia sono sono d'accordissimo con te assolutamente secondo me può essere molto interessante anche per le similitudini perché a volte capita che qualcuno salti a più pari un gioco per via della tematica verissimo in questo caso se qualcuno non piace flam rouge per il ciclismo che però si perde un gioco molto divertente sono d'accordo con te se gli piacciono le auto magari lo recupera assolutamente si magari poi scopri che quell'autore ha già fatto un gioco simile con un'altra ambientazione questo ti piace un sacco e torni anche a recuperarti quello vecchio o banalmente ti piace un botto flam rouge e dici cavoli stessi autori di nuovo un gioco di corse non più con le bici ma con le macchine andiamolo a vedere sicuramente chiaro che squadra che vince non si cambia ovvio che fargli fare un gestionale ambientato nel medioevo magari non aveva lo stesso oppile di fargli fare un altro gioco di corse anche perché qua hai la consapevolezza che comunque i giochi di corse li sanno fare e li sanno fare bene e quindi abbiamo trovato qualcosina in più continueremo a parlarne perché days of wonder sta proprio settimana dopo settimana rilasciando una nuova foto una nuova immagine una nuova paginettina con un commento dell'autore e il ciclismo non piace nemmeno i ciclisti secondo me ma flam rouge è bellissimo grazie al pavis per questo tuo commento devo ammettere che anche a me il ciclismo non piace ma così come non mi piacciono i motori macchine moto e tutto un po' non sono un grande appassionato di sport moto auto 100% dice turgan però però flam rouge è un gran gioco turgan dai lo devi lo devi ammettere anche se non ti piace il ciclismo per carità infatti io per primo pur non apprezzando tantissimo gli sport in generale comunque giochi ben fatti anche se hanno una tematica che non mi acchiappa li apprezzo li apprezzo tantissimo mi dicevo di sto gioco per adesso senza nome ne parleremo sicuramente ancora e lo vedremo penso quest'autunno spero fortemente che lo vedremo anche lo vedremo anche in Italia staremo a vedere per adesso non sembra dalle immagini che hanno rilasciato che ci sia granché di testo se non appunto Fuel Tears e quant'altro che si possono diciamo tradurre con con semplicità o comunque anche giocarli in inglese se proprio non dovessimo vederlo in italiano sarà comunque giocabile secondo me anche anche in inglese perché non ti serve sapere la traduzione di Tier vedi il disegno della gomma e capisci che fa riferimento a quello però mi auguro mi auguro fortemente che arrivi un'edizione italiana anche di questo ma andiamo avanti perché di questo già ne avevamo parlato vi ho promesso degli zombie in questa puntata e guardate cosa arriverà zombie kit tanks per adesso non c'è ancora notizia di un'edizione italiana se c'è me la sono persa ma visto che tutto ciò che è uscito del brand di exploding kittens di cui anche zombie kittens fa parte è stato portato in Italia ad asmo d'Italia confido nel fatto che anche questo zombie kittens arrivi perché comunque qua scritte da leggere ce ne sono e il funzionamento di questo zombie kittens sarà molto molto simile a exploding kittens quindi una roulette russa fatta di carte nella quale noi pescheremo delle carte che ci daranno ogni tanto ci salterà anche fuori il gattino esplosivo che se noi non abbiamo una carta per poter disinnescare ci farà eliminare dal gioco altrimenti se riusciamo a disinnescarlo verrà rimesso nel mazzo e qualcun altro lo pescherà finché non ne rimarrà soltanto uno il fatto che le carte che abbiamo è gatto gatti zombie con occhi a cuore da parte di Kaila sono d'accordissimo con te perché i gatti a me non piacciono ma se sono zombificati possono diventare divertenti perché qualcuno si ricorda di pezzematari chi è il primo che viene risuscitato dal pezzematari se non proprio il gatto che poi diventa una bestiaccia brutta cattiva che riesce anche a far fuori il vicino non ditemi più che spoiler ragazzi pezzematari il film almeno è uscito cioè io ero bambino penso che la prima volta che avrò visto pezzematari avrò avuto 6 o 7 anni quindi ormai è passato veramente tanto esatto esatto Michele ora che ci sono i tuoi nemici numero 1 i tuoi amori numero 1 che vincerà penso che vincano gli zombie in questo caso penso che vincano gli zombie perché Exploding Kittens è un titolo che mi ha fatto veramente divertire un casino ho anche giocato la versione con i minions Exploding Minions che era anche divertente questa è nuovamente una variazione sul tema ma con un ma grande perché il fatto che siano zombie ci saranno delle carte che ci permetteranno di ritornare a giocare anche dopo che siamo stati eliminati e ritorneremo a giocare sotto forma di zombie perché la bellezza è di introdurre gli zombie in qualsiasi gioco da tavolo che ti permette di andare o a riprenderti carte dal mazzo o dal cimitero o nel caso di ritornare anche tu stesso come giocatore a giocare quindi sono sono molto molto curioso come vi dicevo per adesso non ho ancora letto della certezza di vanno a una localizzazione in italiano ma assolutamente assolutamente ci sarà tra l'altro forse però ho detto ah Kyla ha messo gatti zombie coi cuoricini invece era super chicca ti chiedo scusa ho visto solo con la coda dell'occhio 1k e ho pensato a Kyla non so per quale motivo ma comunque super chicca è contenta di questi gatti zombie e lo siamo lo siamo un po' tutti lo comprerò sicuramente se si uscirà in italiano come ti dicevo per adesso non ho visto la certezza della localizzazione ma penso proprio che ci sarà cioè hanno fatto Exploding Kittens Barking Kittens Exploding Minions perché non dovrebbero farci anche Zombie Kittens cioè non vedo perché non vedo perché comunque è stato un gioco di enorme successo cioè è uno dei tizoli questo qua veramente più pop degli ultimi anni di sempre anche Kyla ma i gatti comunque grazie cioè avete l'avevate vista non la notizia che ne fanno una serie tv su Netflix di Exploding Kittens l'avevate visto perché d'altro su Netflix avete la possibilità di scaricarvi il giochino per giocare Exploding Kittens via Netflix questo è un pelo 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 il fatto che per una volta non è che partiamo da una serie e facciamone un gioco ma è partiamone da un gioco e facciamone una serie il gioco da tavolo grazie a Exploding Kittens è diventato soprattutto anche grazie a Exploding Kittens un fenomeno pop ancora più grande rispetto a prima cosa che a me non fa che fare un immensissimo piacere cosa davvero eh sì Johnny non lunedì primo argomento quindi parliamo di questa notizia è già una notizia di un po' di tempo fa in realtà me lo ho appunto allora next di luglio il primo di luglio non mi ricordo che giorno sarà forse il 4 di luglio vero potrebbe essere comunque 4 di luglio esatto prima notizia parliamo di serie su Exploding Kittens e così ne parliamo ne parliamo lunedì va bene così mi mi vado a vedere se intanto non ho rilasciato qualcosina in più qualche informazione in più mi cerco qualche nome magari qualche immagine da farvi vedere e quindi dicevo gioco che ha avuto tutta questa portata immensa asmodè ovvio che ce lo porta dai no siamo fiduciosi siamo assolutissimissimamente fiduciosi e passiamo e passiamo adesso ad un altro titolo passiamo adesso ad un altro titoletto un pochino particolare di cui non ho trovato ancora tante informazioni ma che mi ha incuriosito e quindi ve ne voglio parlare assolutamente che è ah scusate questo è sempre ancora il retro della scatola di zombie kittens dove spiega appunto come si gioca e il fatto che potrai ritornare potrai ressuscitare il rise e l'ultimo giocatore in vita vince e si può anche come scritto anche sul retro della scatola unire ad exploding kittens per fare un mega game utilizzando utilizzando tutte e due le scatole assieme io su questa falsa riga non vedo l'ora che escano le espansioni di unstable unicorns happy little dinosaur si altri titoli sempre di diciamo di questo mondo qua che assolutamente anche here to slay tra l'altro per inserirlo sempre lì che assolutamente fanno anche della goliardia pucciosità divertimento illustrazioni nomi simpatici delle carte gran parte anche di quello che poi è la bellezza del giocare a questo questo gioco e grazie a cuore granata grazie grazie davvero questo qua che si chiama non ho trovato la cover ma il gioco si chiama railroad madness mi piace un sacco questa illustrazione cioè è molto molto divertente penso che faccia parte della cover per quanto per adesso è stato rilasciato rilasciato solo questo particolare in cui noi siamo dei personaggi vari chiamati a creare una rete di ferrovie ok quindi non aspettatevi però il classico gioco ferroviario ok alla stima alla brasa alla railways of the world a tutti i vari 1800 qualcosa che sono usciti negli anni perché noi si creeremo la nostra linea di ferrovie come vedete andando a disporre a disporre delle tessere ma lo faremo tutti quanti i giocatori simultaneamente in real time e poi c'è una particolarità che io su st'immagine che è l'unica che sono riuscito a trovare ci sono stato tantissimo a guardarla perché effettivamente da queste tessere che noi prendiamo e posizioniamo partendo dalla nostra stazione e cercando di crearci comunque una rete ferroviaria in cui lungo la rete ferroviaria caricheremo passeggeri che poi scaricheremo stazioni successive è vero che se ci fate caso sono leggermente rialzati noi le rotaie i binari del treno sono leggermente rialzati sono in in 3d in rilievo rispetto al resto della tessera perché il gioco funziona che noi abbiamo una fase in cui giriamo tessera e buttiamo giù e creiamo un pezzo di ferrovia dopodiché ognuno prende il suo trenino e da descrizione del gioco dice lo spingi o lo spingi o gli dai una schicchera vedi quanto va lontano vedi se non ti cascano i tondini che gli hai messo sopra come vedete sul trenino rosso che sono i passeggeri ogni passeggero che cade si è perso dal treno addio ok è morto non lo so è stato defenestrato dal treno in corsa non ha letto il bigliettino di attenzione in cui c'è scritto di non sporgersi perché noi proprio a mo' di dexterity spingiamo diamo una schiccara al nostro tinino cercando di farlo andare quanto più lontano possibile senza farlo derragliare senza perdere i passeggeri da sopra però quello che mi chiedo è fa anche delle curve anche decise curve a 90 gradi se non ha un minimo di guida ovvio che andranno fuori e saranno delle guide come dei veri binari sì cioè mi viene da pensare di sì ma se guardo l'immagine per quanto sia un prototipo sicuramente ancora questo io non le vedo ste guide raga non le vedo cioè ingrandiamola un attimo ma io non le vedo delle guide boh non lo so help me ditemi voi perché forse sono calamitate può essere potrebbe anche essere potrebbe esserci un sistema di magneti poi lo chiamo anche magneto che ci guarda sempre con tutti quanti gli x-men non lo so comunque mi ha incuriosito a tal punto di andare ad approfondire soffermarmi 20 minuti a guardare un'immagine e ho detto voglio ne parlo perché così magari qualcuno mi sa aiutare qualcuno mi sa dire qualcosa in più relativamente al possibile funzionamento del gioco poi come dicevo magari questo qua è solo ancora un prototipo la versione finale sarà più figa è anche vero che se fossero tanto calamitate o con tanto delle guide spingerlo fuori è difficile ma fatto sta cosa succede dopo la spinta dove ci fermiamo costruiamo una nuova stazione e avanti così e possiamo passare dalle nostre stazioni e dalle stazioni degli altri a prendere prendere passeggeri per poi portarli alle altre stazioni ciao Elks già coi treni mi avevi incuriosito con le schiccare deve essere mio assolutamente sì e ciao anche a Dancefloor che appena ha sconfitto una carbonara beh benissimo benissimo tanta invidia tanta invidia per te esatto quindi staremo staremo a vedere staremo a vedere che cos'altro salterà fuori di questo railroad madness di cui per adesso non c'è neanche ancora la cover del gioco quando si saprà qualcosa di più assolutamente lo approfondiremo ancora se vi va e passiamo adesso un titolo del nostrano Leo Colovini che ritorna si chiama Pegasus Spiel con Kuzoka Kuzoka il centro è Zoo perché nel gioco noi siamo animali che si organizzano per fuggire dallo zoo ok Schizen dice forse non si tratta proprio di schiccare ma va accompagnato il trenino spingendo l'ultimo vagone in realtà la descrizione dice ciao Antoine ciao ciao a te la descrizione parla proprio di o lo spingi o lo schiccheri quindi guarda vengo a a leggerlo assieme a voi perché magari mi sono aspetta perché non voglio dirvi una cosa per un'altra allora ritorniamolo a cercare railroad madness eccolo qua 2-4 giocatori 30-60 minuti quindi comunque ancora un gioco sai non da 5 minuti ok il classico giochino di schicchere allora va bene va bene prima creiamo le tratte poi dopo dovrai muovere il tuo treno lungo le tratte raccogliendo passeggeri dalle stazioni e andandoli a scaricare a caricare nei tuoi vagoni ma se più di un passeggero casca puoi semplicemente riprenderlo prima di continuare il tuo viaggio facile ok vabbè almeno su questo non vengono proprio defenestrati malamente ma c'è un catch c'è una particolarità il tutorial è limitato a 15 secondi aspetta quando ti fai una cosa vuota andrai a costruire una nuova stazione questo ve l'ho detto aspetta passe to in station vabbè gli altri devono dire ding dong quando passi da una loro stazione per farsi pagare dove era scritta sta cosa aspettate adesso lo trovo perché ora ok va bene va bene qua ti spiega come si costruisce le tratte allora va bene va bene va bene va bene ok ok dov'è che l'ho letta sta cosa non l'avrò letto su questa pagina allora perché c'era proprio forse era no era su un altro trade allora che adesso non vado a ricercare per non perdere tempo era sul trade proprio di bgg news quello dove ci sono le designer diaries dei vari dei vari autori in cui parlava di questa cosa qua che poi io spingerlo schiccherarlo però mi mi sembra se si usava la locomotiva rossa attenzione attenzione sembra che le ruote posteriori siano leggermente più larghe in modo che riescono a stare esternamente al binario in sé potrebbe essere un aiuto o semplicemente un prototipo e sono stortine aspetta aspetta si 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 può essere può essere ma anche la locomotiva verde vedi che le ruote interne sono più strette rispetto a quelle esterne che sono più larghe e anche questo qua quindi probabilmente è così probabilmente le ruote dietro stanno stanno a cavallo diciamo del stanno a cavallo del del binario ecco perché grande zero ghost grande 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 grandissimo grandissimo ma ritorniamo al nostro leo colovini che appunto ha fatto uscire kuzoka da non leggere invertendo le sillabe assolutamente sì michele te lo sei meritato te lo sei meritato i passaglieri che cadono mi ricordano il videogioco tem park in cui se non facevi la manutenzione delle montagne rosse cominciamo a volare persone urlanti a tutte le parti bellissimo tem park e ti dirò il sito ora che l'hai nominato mi ricordo in che in che sito l'ho letta sta cosa delle schicchere perché un sito da cui ho preso questa news titolava proprio è uscito un gioco che va ad unire aspetta che ora te lo trovo ah no era che mescola crazy taxi e si unisce a un gioco di ferrovie nel vecchio west eccolo qua l'avevo l'avevo trovato l'avevo trovato quindi si che bisogna cercare di fare in fretta eccetera eccetera nel gioco e boh grazie comunque effettivamente si mi hai sbloccato il ricordo di tem park che mi piaceva un casino ma ritorniamo al nostro kuzoka titolo in cui noi siamo il gruppo di animali dello zoo che cercano di scappare e per farlo come si fa andremo a raccattare cose che i visitatori dello zoo lasciano in giro perché anche un semplice bastoncino di un di un ghiacciolo lo possiamo utilizzare come pala per scavare il gioco sarà collaborativo e sarà abbastanza una strattone come vedete in quanto abbiamo delle carte in vari numeri e vari colori che giocheremo per far avanzare la pedina del nostro gruppo lungo il tracciato il fatto è che noi abbiamo una mano di carte e non possiamo mai parlare liberamente delle carte che abbiamo gli altri giocatori ogni turno ne giocheremo una cercando di dare indizi in base al colore e al valore delle carte che ci sono rimaste in mano questo perché a un certo punto il gruppo dovrà dichiarare ok basta fermiamoci perché ogni volta che si giocano delle carte si fa avanzare un segnalino lungo il tracciato vedete che il percorso avrà all'inizio uno arancione due verde uno rosso due blu ma andando avanti diventerà più complicato ok si arriverà ad avere magari un 5 verde un 5 giallo un 8 verde un 7 blu ok questo perché quella è la quantità di carte di quel colore che il gruppo deve scartare quindi io scarterò carte per dare informazioni agli altri cercando però di tenermi carte sufficienti perché le mie carte unite a quelle degli altri della squadra gli altri giocatori serviranno per far avanzare il nostro pedoncino verso la libertà verso la fuga dallo zoo si giocheranno si giocheranno vari round in cui si cercherà in base anche alla quantità di carte che abbiamo in mano sarà più facile o più difficile riuscire a portare a termine il nostro percorso e per alcuni piccoli versi per quanto poi qua è collaborativo e l'altro no però mi ricordava un po' mi ha ricordato un po' Cartagena sempre di Leo Colovini non so se lo conoscete è un gioco vecchissimo ma anche lì nel gioco noi giochiamo carte per avanzare e lì c'è la particolarità che anche le carte avevano sopra degli oggetti e io avanzavo fino alla prima casella con quell'oggetto e la posizione degli altri giocatori mi andava magari a coprire delle caselle che potevo saltare qua questo aspetto non c'è però un po' la gestione della mano di carte il modo in cui ci si muoverà avanti lungo il percorso l'ho trovato comunque non così dissimile questa tra l'altro è una delle poche immagini che ho trovato presa dal regolamento proprio come vedete anche dai vari numeretti controlliamo se ce n'era ancora no poi dopo vi parlo di Tabriz pensavo di aver messo ancora un'altra immagine ma non non mi ricordavo e Leo Colovini grande onore italiano nel caso è uno dei giochi più recenti che sono arrivati qua da noi suoi è stato Eriantis che era il remake sempre del suo Carolus Magnus gioco di di anni e anni fa ciao Zero Ghost grazie grazie mille buon appetito buon appetito e chissà se arriverà anche da noi speriamo di sì comunque mi sembra un gioco semplice adatto di essere giocato anche con tutta quanta la famiglia e il fatto è comunque chiaramente è stato pubblicato da Pegasus che è una grandissima casa editrice tedesca e tanto tanto di cappello per lui e una rock star del panorama ludico assolutamente sì assolutissimamente sì e chissà speriamo che magari se ne possa vedere una un'edizione italiana anche di di questo ma parliamo di questo Tabriz Tabriz ambientato come suggerisce anche l'immagine nei mercati arabeggianti con appunto acquisti di tappeti principalmente nel gioco faremo tappeti che poi vendiamo al mercato e degli stessi autori di Cascadia quindi ci fosse ecco vedi a spostare prima a ingrandire le immagini ho coperto il logo di Next che fastidio diceva degli stessi autori di Cascadia per quanto poi il gioco avrà delle meccaniche molto diverse ma se vi è piaciuto Cascadia vi è piaciuto come hanno lavorato gli autori dietro Cascadia ovvero Randy Flynn e Sid Flynn andate a dargli un'occhiata a questo Tabriz di cui per adesso non ci sono ancora grandissime immagini se non queste carte che i cubetti che ci sono sopra saranno i materiali che ci servono per poter fare i tappeti tappeti che saranno in tre livelli di qualità e quindi tre livelli di difficoltà nel completare le nostre carte obiettivo e poi avremo i vari mercanti che verranno ad acquistarle e a venderle quindi dovremo fare i tappeti anche che ci richiede uno isole di Tabriz ed è subito Bando guarda vedere l'occhio dell'imprenditore se i Cascadia male se i Cascadia molto molto male questo gioco e quindi poi dovremo andarli a vendere cosa che si vede da qua per adesso non ho rilasciato pochissimissime info ancora sul sul gioco però è che ogni carta probabilmente avrà degli effetti immediati una volta completati e magari degli effetti ongoing permanenti che ci rimangono finché non vendiamo quel tappeto e che ci faranno aumentare la nostra probabilmente abilità nel prendere cubetti colorati fare cose oppure per esempio questa qua che si vede bene qua al centro del tappeto marrone secondo me che nel momento in cui la completiamo ci da una moneta un cubetto di un colore che vogliamo e un qualcos'altro che non riesco a capire forse punti vittoria e la possibilità finché ce l'abbiamo una volta per round di cambiare un cubetto bianco in un cubetto verde ad esempio però nel momento in cui sceglieremo di venderla per fare punti e quindi vincere il gioco fondamentalmente perderemo questo 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 bonus dipende se sono tappeti volanti ho anche ragione ma nulla vieta la promo tappeto volante chissà perché ora che l'avete detto mi pare ovvia e scontata per un gioco per un gioco del genere vero l'alichicchi vero volevo dirlo anch'io venendolo così mi ricordo un po' century per i cubetti effettivamente l'idea di gioco l'idea di gioco Tania ti rispondo subito l'idea di gioco è anche a me me la data quando ho visto i cubetti perché in century la via delle spezie noi anche abbiamo delle carte dei contratti da completare che ci richiedono cubetti proprio in quei colori cubetti di valore via via sempre maggiore che noi tramite alcune carte che giochiamo possiamo migliorare scambiare upgradare e via dicendo non so se sarà così anche qui non so con quali meccaniche noi otterremo questi cubetti otterremo queste carte però è un gioco che comunque ne è descritto di un certo peso quindi probabilmente sarà a livello un pochino più complesso rispetto al rispetto rispetto a century la via delle spezie intanto rispondo Tania che mi chiede se una notizia su Teletum ho visto che è in uscita ho visto che c'è prossimo gioco di appunto di Luciani e Tashini sempre della T-Series sempre con la Dice Board & Dice in cui hanno fatto appunto tutti i giochi della T-Series quindi tutti questi titoli molto strong molto per giocatori esperti con tantissima roba al loro interno tante meccaniche tanti componenti che si incrociano e tutti che iniziano con la lettera T è uscito Tawanting Suyu è uscito è uscito l'altro lì quello con l'obelisco di cui adesso mi sfugge il nome che è proprio Tawanting Suyu Teotihuacan tutti con dei nomi impronunciabili e adesso è uscito anche Teletum di cui però non vi parlo oggi ma segniamolo perché sì effettivamente ho visto che era uscito ho detto questa potrebbe essere una buona notizia per Next ma ne parliamo lunedì assieme al fatto che avessero annunciato questa serie su Exploding Kittags quindi ritornati lunedì siete obbligati a ritornare anche lunedì a seguirmi e grazie a tutti quanti e quindi Tabriz che non fa parte della T-Series per quanto inizia con la T ne avremo notizie più avanti staremo staremo a vedere visto che Cascaglia comunque qua da noi è arrivato chissà magari arriverà pure questo magari qualche editore sta sentendo dice wow bellissimo andiamoci ad informare proviamo a prenderne una localizzazione e titolo che mi aspetto venga localizzato perché voi dite ma sì lo prendi in inglese ci giochi lo stesso secondo me no e poi capirete da solo il perché ma spero fortemente di vederlo perché mi sembra molto molto divertente molto cacciarone molto veloce molto casinaro ma di quei giochi dove io mi spacco da ridere che è walkie talkie della devir quindi verosimilmente mi auguro che devir oltre che in spagna lo faccia anche in italia chissà magari poi lo troveremo distribuito anche qua da noi ed è un gioco di parole in cui noi cercheremo di finire le carte che abbiamo in mano il più in fretta possibile o comunque prima degli altri per cercare di fare quanti più punti possibile dati dalle carte che tutti i giocatori hanno giocato in un mazzetto al centro del tavolo e come funzionerà in che modo noi ci libereremo delle carte che avremo in mano le carte che avremo in mano saranno un po' lettere e un po' colori come si sentono ah irtemis bellissima domanda ritorniamo subito su walkie talkie perché ti voglio rispondere subito come si sentono allora allora vabbè nemo profeta in patria ok salutiamo anche il pesciolino nemo per quanto non è lo stesso non è neanche il capitano del nautilus ma così ora blaghiamo ora flexo quelle due cose che so di latino io che è latino non l'ho mai studiato nessuno è profeta in patria quindi ah gli autori italiani non vengono pubblicati in Italia non è proprio così cioè non è vera questa cosa diciamoci la verità semplicemente da autore se mi prende come nel caso di Leo Colovini la Pegasus Ospiel che ha la possibilità di un mio gioco di farne una tiratura molto più grande di un editore italiano più piccolo che non ha possibilità perché non c'è mercato per fare delle tirature come quelle che mi possono fare all'estero sfido chiunque a non se devo scegliere tra essere pubblicato in Italia per avere la certezza di avere un'edizione italiana o essere pubblicato in Germania Francia Timbuktu ma avere una tiratura sparo a caso dieci volte più grossa e quindi guadagnare dieci volte potenzialmente gli stessi soldi va da sé non arriverà mai in italiano e pazienza cioè io non me ne farei un grande cruccio al loro posto cioè perché è anche la possibilità al di là della mera pecunia al di là della quantità di copie che mi possono stampare dei soldi che posso ottenere e anche proprio tutta un'altra possibilità di farsi conoscere del fatto che quel tuo gioco arrivi a molte più persone a molti più addetti ai lavori e magari la volta successiva che un nuovo gioco da presentare a qualcuno magari mi è più facile dire stai sono quello che è stato pubblicato da Pegasus visto che prima parliamo con Lovini parlavamo di Pegasus che sono stato pubblicato da casettina editoriale italiana ok senza nulla togliere nessuna casa editrice italiana ci mancherebbe ma è proprio solo una mera questione di numeri e di reach che posso avere comunque deve essere strano sì sì forse sì forse no cioè mi immagino magari un autore di giochi di un paese a caso penso delle isole Fiji e che dice eh però il tuo gioco nelle isole Fiji non si trova si trova solo in America dici va bene cioè non lo so e poi magari le isole Fiji ho beccato il posto più con l'editoria ludica più grossa del mondo ma non lo so ammetto la mia ignoranza sì probabilmente un po' strano lo è però non lo so cioè mettendomi nei loro panni chi se ne è però però invece torniamo su Walkie Talkie ed è il perché spero che ci sia un'edizione italiana perché le carte saranno un mazzo alle Fiji sono avanti anni luce lo so saranno un mazzo di carte con delle lettere che sul dorso avranno colori vari ok noi prenderemo questo mazzo lo giriamo metà faccia in su metà faccia in giù e gli diamo una bella mescolata quindi avremo un po' di lettere e un po' di colori totalmente a caso nella nostra mano distribuiamo le carte ai giocatori se ne girano due al centro del tavolo tipo quella C gialla ok e i giocatori potranno giocare o una lettera o un colore dalla loro mano dicendo una parola tipo se io gioco la N sopra il giallo potrò dire nave sottomarina perché we live in a yellow submarine ora era la cosa più stupida del mondo ma capirete che non era così stupida io dovrò giocare una carta dicendo una parola associata al colore di fianco che inizi con quella lettera oppure giocare un colore per dire una cosa che inizia con la C blu cielo ok gioco il blu e dico cielo il fatto è che io cercherò di liberarmi delle carte se a un certo punto vedrò che sono impallato posso chiamare un cambio e quindi tutti i giocatori ribaltano la loro mano di carte ed improvviso si trovano nuove lettere nuovi colori in mano e andiamo a continuare in questo modo finché qualcuno non riesce a liberarsi di tutte le sue carte farà punti per tutte le lettere che sono state emesse non tutte ma alcune lettere tipo quella N in alto a sinistra a tre stelline sopra vale tre punti vittoria quindi anche giocare carte che danno punti se vedo che sono rimasto indietro magari non le giocherò però qualcuno potrebbe chiedere il passo e quindi le carte passare di mano oltre che essere ribaltate e magari sto dando quelle carte a qualcuno che invece le giocherà e ci potrà fare dei punti mi sembra super super semplice veloce immediato divertente perché esatto io sono invincibile a questi giochi pazza parola a docet esatto perché con la N di con nave sottomarina e tu dimmi che non può essere gialla che ci hanno fatto su una canzone ai Beatles chiamandola yellow submarine e il sottomarino cos'è se non una nave sottomarina e quindi allora certo che vale quella carta è proprio il classico gioco da party da compagnia da farsi due risate da fare un po' di cacciara e assolutamente mi ispira un casino e perché aspetto l'edizione in italiano perché la distribuzione delle lettere all'interno delle parole cambia e banalmente anche solo per non trovarsi la k la x o la n visto che il gioco è spagnolo cioè la devira è spagnola penso che uscirà un'edizione spagnola se mi uscisse la n quella con la non mi ricordo mai come si chiama la norma sopra quella che fa la gne l'ondina sopra la n è una roba che non mi entra mai in testo forse la norma ma non sono certissimo quindi ditemelo in chat vi prego se qualche linguista lo sa la tilde la tilde non la norma era un nome mi ricordavo che era tipo un nome di donna però no no tilde tilde ci sta impecorator ci sta ci sta era tipo un nome di donna con una parola di senso compiuto ho detto norma ma non era norma era la tilde salutiamo tutte le norma e tutte le tilde che ci guardano le matilde tutte le tilde ciao tilde ciao ciao a tutti comunque avete capito del perché della di là delle mie mia rimbambimento avete capito del perché comunque un'edizione italiana anche solo per la distribuzione delle lettere della quantità di lettere anche se si fa sempre solo riferimento alla prima però penso che sia che sia importante e importante averlo e questo walkie talkie eccolo qua e ora vi parlo di un gioco che in realtà è già uscito da un pochino ma che non avevo ancora sentito che è Animalia della Queenhead Games un gioco che lo vedi così e dici wow sarà di nuovo il nuovo giocone nella Queenhead invece no è un giochino di carte grande così di cui vi ho messo un'immagine dopo per farvi capire la dimensione della scatola ma ve ne parlo perché è una tematica interessante comunque che mi faceva mi faceva piacere sottolineare mi fa sempre piacere quando nei giochi da tavolo si usano i giochi da tavolo anche per veicolare dei messaggi dei messaggi fighi importanti come in questo caso perché come già vedete anche dal sottotitolo di questo Animalia è preveniamo l'estinzione in quanto nel gioco noi cercheremo per l'appunto di soddisfare delle carte obiettivo che saranno delle azioni volte a prevenire l'estinzione di determinate specie animali in giro per i vari componenti come vedete qua Sud America Europa Nord America ognuna di queste carte tra l'altro ci dirà quali carte dobbiamo accumulare al fine di ottenere poi la vittoria del la vittoria della nostra partita e come lo faremo ci saranno varie carte rappresentanti i vari animali alcune come vedete hanno sotto anche degli effettini che si sbloccheranno solo in determinate circostanze carte che saranno numerate dall'1 al 9 in vari colori che rappresentano le varie zone del mondo fondamentalmente e come si giocherà come si giocherà a questo animalia preventing extinction si gioca esattamente come a briscola avete presente The Crew ok The Crew è una briscola briscola lo conoscerete tutti 3-7 se non conoscete briscola penso che lo conosciate il principio del gioco è lo stesso ma proprio come in The Crew è un gioco collaborativo quindi ognuno di noi avrà il suo obiettivo da dover portare a termine salvare determinate specie di animali raccogliere un determinato gruppo di animali di una certa tal zona ovvero vincere il trick vincere la mano in cui la carta che ti serve a te viene a te perché se io non la prendo abbiamo tutti automaticamente perso la partita come vedete la scatolettina è super super piccola quello che vi dicevo prima un giocatore quindi giocherà il lupo il 4 viola gli altri giocatori devono seguire con un viola se non ce l'hanno possono giocare una carta di un altro colore che andranno al giocatore che avrà giocato la carta viola di maggior valore c'è una particolarità il fatto che il gioco sia per 1,2,3 giocatori e basta e quando invece vedete ah ma briscola come a coppie due contro due perché c'è sempre un giocatore fantasma ma tra molte e molte virgolette in realtà c'è la cooperation che avrà delle carte sul display che noi giocheremo anche nel nostro turno ma cosa ci serve avere quelle carte diciamo in comune a tutti quanti i giocatori che ci servono per quei simboletti lì sotto perché i simboletti lì sotto ci possono dare dei soldi oppure ci possono permettere di fare delle azioni tipo scambia le carte tra l'uno e l'altro attiva le carte le abilità quelle con la freccina con il play rosso che vedete su queste carte che abbiamo noi che ci permettono quindi di provare a vincere la partita ma queste abilità si sbloccano solo e soltanto se a vincere il trick in questione è la corporation il giocatore fantasma chiamiamolo così ok mi ha incuriosito allora dovete sapere che nonostante Artemis dica che The Crew non abbastanza apprezzato nonostante il premio vinto perché è vero ha vinto ha vinto lo Spiel giusto se non mi sbaglio con lo spirito giusto e sfidante a me non è piaciuto The Crew ma come 99 su 100 non mi è piaciuto nessuno dei tantissimi giochi ripensati dalla briscola che sono usciti ok pochi mi avevano un minimo incuriosito ma proprio pochi pochi ne sono usciti parecchi e mai nessuno mi ha detto niente perché sono sempre abbastanza variazioni della briscola The Crew figo il fatto che fosse collaborativo ma non mi aveva preso così tanto ok perché in The Crew ma penso un po' anche in questo un giocatore meno bravo a giocare a briscola magari fa un errore perché neanche sa che sta facendo un errore e il giocatore più scafato che si ricorda ha capito dopo due mani le carte che hanno in mano tutti quanti c'è troppa disparità ok Animalia farà differenza non lo so il fatto che comunque ci sia un giocatore in comune per tutti da dover utilizzare per attivare questi bonus probabilmente gli da una variabilità lo differenzia abbastanza dalla briscola classico dal classico The Crew per cui potrei essere incuriosito a provarlo e si ho vinto lo spiego un paio di anni fa non ricordo lo specifico sì penso due anni fa 2019 diamolo vedere vai in che anno ho vinto The Crew Quest for Planet 9 vi dico subito quando ho vinto perché se non lo so subito impazzisco dove sono scritti i premi vinti dove diavolo qua no dove eccolo qua ha vinto ha vinto di tutto comunque nel 2020 ha vinto il Kennerspiel il Kennerspiel vi ricordo anche tra l'altro poi che il 16 faremo la live dedicata di nuovo allo Spiel al Kennerspiel quindi vi aspettiamo numerosissimi e è per rischio inarrivabile se uno sa contare è sempre avvantaggiato ma non è vero non è vero non di tutti quanti i giochi di carte assolutamente però effettivamente come dice Antoine la briscola c'è già la briscola a che vi serve? però vabbè è un pensiero molto mio molto personale tutti i tantissimi riconoscimenti che ha avuto The Crew ne sono la prova perché è stato nominato al gioco dell'anno ha vinto il gioco dell'anno per esperti in Francia è stato nominato il 5 season best international party and co-op nominato da trick track ha vinto il trick track di bronzo ha vinto in Olanda il best advanced game winner in Olanda ha vinto in Germania ha vinto in Spagna ha vinto in Giappone ha vinto l'international gamers award che viene fatto in America il guild brick and best adult game winner che penso sia un premio tedesco che non ho mai sentito good and lud best family game tantissime cose tantissimissimissimissimissimissimissime cose questo il golden geek il meeple choice mi ha vinto veramente una una caterva in mane quindi assolutamente assolutamente il cristiano ronaldo dei gdt esatto però nonostante questo chapeau che ancora Ora che non conosco quel meme ormai passato di moda di Cassano, nonostante tutto quello che ha vinto, a me non piace, perché il gioco è raffinatezza, ventola, che è un telecronista sportivo, me l'avevate detto, ma ho già rimosso, ma tutto quello che riguarda lo sport non si ferma, drena via e se ne va, e se ne va. Comunque sì, però vista la tematica importante di questo Animalia Preventing Extinction mi andava di parlarne, però nonostante questo può non piacere, come tutto, come tutto sacrosanto e sempre sacrosanto che un gioco vi piaccia o che non vi piaccia, perché tanto poi alla fine chi ci deve giocare siete voi, se vi piace vi ci divertite, è bella qualsiasi cosa, se non vi piace è meglio altro per voi e non per questo vi dovete sentire in difetto, solo perché ha vinto un milione di premi o perché tutti vi dicono è il gioco più bello del mondo o solo perché è settimo sulla classifica di BGG, se però poi voi giocate a Dark Nova non vi piace, non dovete sentirvi inferiori perché, ah no ma è il settimo sulla classifica di BGG, oh non posso dire che è brutto perché in sei mesi ha scalato la classifica, chi se ne frega, cioè di cosa stiamo parlando ragazzi? se poi non è che dovete giocare da quando in qua è un dover, cioè deve essere una roba con la quale vi elevate e la cosa, poi ne approfondiremo presto di questo argomento, avremo un ospite a Giochi Giullari con cui parleremo di questo, smettiamola di usare la definizione gioco intelligente vi prego, e quanto di più sbagliato ci sia, perché la contrapposizione a gioco intelligente è gioco stupido, perché, cioè la dicotomia è quella, intelligente è stupido, se io dico, ah gioco i giochi intelligenti, allora fai sentire tutti quelli che non ci giocano o li blocchi e non gli fai venire voglia di giocare perché si sentono stupidi, dicono e se poi io non capisco e se poi perdo vuol dire che sono stupido, ma grazie al cacchio se facciamo una partita in dieci persone e vince uno, uno è intelligente e nove sono stupidi, vi prego smettete, cioè smettiamola, ok mi ci metto dentro anch'io, ritorniamo alle news, non usate, chiamateli giochi divertenti, chiamateli giochi come volete voi, giochi piripacchi, chiamateli come vi piace, ma non diciamo gioco intelligente, vi prego, perché è il modo peggiore, ma approfondiremo, ci sarà tempo, spazio e ospiti con cui, con cui, con cui parlarne assolutamente. Grazie Melks, grazie, scusate, ogni tanto più, ogni tanto mi parte, dei peri dieci di BGG, penso a me ne piaccia una, e va bene così, e ci sarà la Sasha's preferred list board game most frequently laughing when playing with Sasha, e avrà la stessa valenza per quanto mi riguarda, un gioco è un gioco, esatto, e ritorniamo dai, ritorniamo un attimo alle news, ritorniamo un attimo alle news, perché ne abbiamo, ne abbiamo ancora un sacco, tra l'altro, perché sono state annunciate queste cose qua, le Unlock Short Adventures, ovvero una nuova serie di Unlock, che funzionano esattamente come gli Unlock, ma che hanno una particolarità, ma hanno una particolarità, ovvero quella di essere più short, con vari livelli di difficoltà, come vedete, ma di essere proprio pacchettino piccolino di carte, con meno carte rispetto a una classica Unlock, e con una durata più contenuta, tra i 30 e i 45 minuti, grossomodo. e per adesso ne sono 6, vendute singolarmente l'una dall'altra, a poco meno di 8 euro, 7 euro e 50, una cosa così, per adesso solo in Francia, ma anche qui mi aspetto che arrivino anche sul mercato italiano, fascia di età, il Pabis. te lo vengo a dire subito, te lo vengo a dire subito, le troverò, le troverò, aspettate, 30 minuti dai 10 anni in su, scusate, vi ho detto una stupidaggine sul prezzo, perché forse è leggermente più alto, ma vabbè, lo andremo a... no, perché no, qua sono finito su un sito strano, scusate, non era quello che mi interessava vedere, no, infatti 6 e 90, 6 e 90, ok, mi ricordavo, mi ricordavo questa particolarità, e comunque escono dai 10 anni in su, per adesso ne escono 6, ok? per adesso ne escono 6 e... è stato assicurato dal signor Space Cowboys che non saranno mai queste piccole messe dentro scatole grosse, né quelle delle scatole grosse saranno mai scorporate per farne di piccole, ok? e... esatto, sono dei dati una gioia, assolutamente sì, quando usciranno per adesso sono usciti in Francia, ma non so ancora di... non so ancora di... di cose di uscite in Italia, ok? quindi per adesso, non so, ma mi informerò e nel caso vi dico prossima settimana e... le repliche delle live... ok, tanto grazie ai moderatori che stanno spiegando cosa di cui io non sono a conoscenza e per adesso ne escono 6, con vari livelli di difficoltà, come vedete funzionano sempre tutte quante più o meno allo stesso modo telefono non è incluso, ti specificano, perché come sempre si usarà l'app e come vedete il timer partirà a seconda della scatoletta da 30 o da 45 minuti gireremo delle carte, vedremo dei numeri, li apriremo, saranno degli oggetti o delle cose con cui useremo per interagire con altre sommeremo le carte per andare avanti risolvendo delle... risolvendo delle... delle mini avventure, esatto il fatto che siano più veloci non vuol dire che siano più semplici, per quanto ce ne saranno di più facili e più difficili e ce ne sono per il momento 6, quindi abbiamo questo qua dello chef pasticcione avremo questa qua dell'avventura... aspetta che avevo trovato tutti i titoli adesso ve li dico tutti, allora, panico in cucina il risveglio della mummia, che è questo qua, meno caro e più coro il risveglio della mummia, che è questo qua, che state vedendo in questo momento poi abbiamo il volo dell'angelo, con questa ambientazione molto carnevale di Venezia e questo volo dell'angelo che mi ha fatto ritornare in mente il... quello lì, Assassin's Creed lì è zio auditore che si butta giù dai... dai campanili facendo il volo dell'angelo per poi atterrare magicamente sempre in mezzo alla paglia abbiamo il Dungeon del Drago, mi sembra che si intitoli, il Dungeon del Du'Aran ok, quindi con questo drago da dover combattere e la prossima che è all'inseguimento, alla pursuit di Karabakan quindi alla ricerca, all'inseguimento di Karabakan probabilmente templi, maia, robe varie, robe di templi, di tesori da dover andare a trovare pre-order subito per queste meraviglie, la Colombina di Venezia esatto la pre-order subito per queste meraviglie, assolutamente sì per adesso, come vi dicevo, non ho ancora visto del fatto che Asmodee le abbia annunciate però potrei, a, essermelo perso, b, potrebbero averlo fatto in questo weekend mentre, non ho guardato, mentre Ark 9 è passato dalla nona alla settima posizione ma no, dando un'occhiata sommaria e molto veloce, no però ci sono già alcune cosine invece che ho visto sempre in questo weekend di cui parleremo lunedì prossimo perché anche se ero via a fare festa col dittino sui social si passa e qualcosina lo si vedeva e quindi arriveranno, arriveranno anche queste queste nuove, queste nuove unlock ah, di cui mi manca l'ultima, scusatemi, eccola qua questa qua a tema pirati questa qua a tema pirati dal titolo il segreti della piovra che salutiamo anche tutte le piovre che ci guardano e che era Placido, no? che faceva la piovra negli anni 90 vabbè, salutiamo anche Placido nel dubbio noi salutiamo sempre tutti meno care, più veloci non per questo più semplici però può anche essere un buon modo per chissà queste unlock come sono non ho voglia di spendere 30 euro per prenderne una scatola che poi magari non mi piacciono esattamente Johnny ne prendo una di queste la provo, vedo se mi piace e poi ci stanno anche tanto per magari associazioni o gruppi di gioco o magari un gruppo di gioco che ci troviamo a giocare ognuno ne compra una o ognuno ne compra due e le abbiamo prese tutte spendendo spendendo di meno e mi soffio il naso, scusate ah, che belle le allergie, eh ragazzi che belle le allergie ma andiamo avanti andiamo avanti anche se sono quasi le 2-10 io ho ancora qualcosa di cui parlarvi e magari mi mi dilungherò un pelino di più vi chiedo scusa sin da subito ma ma hanno anche parlato di questo Galileo Project ok che è praticamente una reprint di un cioè ma non è un reprint è un nuovo titolo basato su un vecchio gioco sfruttando più o meno le stesse meccaniche di cui per adesso non si sa ancora tanto il vecchio gioco era Ganymede non so se qualcuno di voi l'ha giocato di una casa editrice francese che ha un nome eccezionale che è Sorry We Are French ovvero scusateci ma siamo francesi quindi molto autoironici è già la cosa mi piace mi piace assolutamente ma è un gioco di gestione della mano giocheremo delle carte che ci permetteranno di andare a piazzare i nostri i nostri omini in giro per per le varie per i vari pianeti per i vari sistemi cercando di fare punti e completare carta obiettivo fondamentalmente c'è un sacco di roba prenderemo un sacco di di carte di personaggi che ci sbloccheranno delle abilità e da quello che ho letto è molto simile appunto a questo vecchio Ganymede titolo che però non conosco e che adesso la Sorry We Are French ha riproposto in questa nuova versione chiamata Galileo Project in cui si va ad esplorare una parte diversa dell'universo ma il gioco deve essere rimasto più o meno uguale Melx questo qua è progetto Galileo eccolo qua Galileo Project ok ed è un spin off chiamiamolo così di Ganymede sempre degli stessi autori della stessa casa editrice ma figurati figurati ci mancherebbe non so se qualcuno di voi conosce non so se qualcuno di voi conosce questo Ganymede perché a me sono onesto manca totalmente non l'avevo mai sentito nominare e nel caso sappiate com'è ditemelo perché magari da quello può anche possiamo anche capire se è valido o meno questo questo project project Galileo non mi rimane non mi rimane mai in testa ma andiamo avanti andiamo avanti abbiamo ancora un paio di titoli uno è questo Sabica Sabica titolo che vi ho nominato perché ha una meccanica secondo me curiosa di cui per adesso si sa poco ma che mi incuriosirà scoprire ovvero questa mega rondella che noi abbiamo al centro in cui abbiamo tre rondelle scusatevi ma il naso oggi è veramente sta tagliando l'erba qua sotto e sto morendo abbiamo queste tre rondelle che si vanno ad intersecare e noi andremo a costruire ancora una volta perché sono mille giochi che hanno questa ambientazione ma i giardini e i palazzi dell'alambra ok da alambra a summer pavilion queen's garden e i vari azul che sono usciti anche sempre con la stessa tematica anche qua nuovamente andremo a fare i palazzi dell'alambra ma il gioco come vedete già solo da quest'unica immagine che ho trovato ha un sacco di elementi potrebbe interessare molto ai giocatori che cercano giochi un po' più complessi con più elementi da dover monitorare perché queste tre rondelle vanno a ruotare non so se tutte nello stesso senso ma una indipendentemente dall'altra e a seconda probabilmente del cerchio su cui saremo sbloccheremo cose diverse man mano che ruota non potremo spostare i nostri lavoratori da ruota a ruota ma poi queste ruote gireranno e ci sbloccherà delle azioni degli step diversi da poter fare tra un passo e l'altro fondamentalmente e quindi non so sarà curioso so che ci sono tre elementi di cui tenere traccia uno che è proprio più legato alla costruzione della lambra uno che è più collegato dei contratti da dover fare con dei mercanti e un viaggio su una mappa che è quella giù in basso in cui andare a vendere comprare scambiare risorse che probabilmente ci serviranno comunque anche per costruire la nostra lambra e le varie robe saranno interconnesse interconnesse tra di loro mi piace comunque non tanto la cover ma la grafica dei componenti mi incuriosisce ci sono vari pezzi vari elementi come vedete pedine di non solo di vari colori ma anche di varie dimensioni che probabilmente faranno cose diverse a seconda di dove saranno messe quindi chissà ne sentiremo ancora parlare boh nel caso sappiate che in next me ne abbiamo parlato prima di tutti e oltre oltre per un fatto sembra tanto complesso può essere in pecorator può essere ma oltre ne abbiamo già parlato di oltre perché sapete che non solo ne abbiamo già parlato ma addirittura è già stato anche giocato in live qua su twitch dalle nostre Silvia Giulia assieme a Franci e Jack proprio negli studi di Dungeon Dice TV ma non solo la potete recuperare comunque sul nostro canale youtube e già se ne è parlato e ne è anche parlato Giulia in una sua puntata del gioco verso che è questo gioco di esplorazione di Antoine Bouazac che arriverà a marchio Gate of Games proprio questo questo autunno gioco in cui noi siamo appunto dei cavalieri che vivranno questa avventura molto anche molto narrativa e dovremo cercare di completare vari obiettivi che il gioco ci porrà davanti con vari vari problemi e Sasha bene ma recupera ma attenzione perché la notizia di cui vi parlo ciao Fabio ciao grazie per seguirci dalla Grecia anche da in vacanza Fabio ci segue grazie mille davvero ma di oltre ve ne abbiamo già parlato e quindi voi dici ma perché ce l'hai portato in next dove ci dovresti parlare delle novità delle cose che vedremo poi perché io ho detto che gli zombie stanno bene su tutto e guardate che cosa ho trovato Tales of All 3 Undead and Alive vi giuro che non è uno scherzo vi giuro che esiste vi giuro che l'hanno annunciato Studio H che hanno fatto in originale oltre che Gate of Games correrà di cui correrà la localizzazione in italiano fanno uscire un'espansione e guarda caso ritornano gli zombie ah sei lì per lavoro non va a casa beh grazie a Fabio lo stesso per esserti riuscito a collegare nonostante il lavoro dalla Grecia e come vi dicevo gli zombie stanno bene su tutto e infatti stanno bene anche su All 3 perché hanno fanno uscire questa prima espansione di All 3 che già in Francia sta avendo un grandissimo successo zombie ovunque assolutamente sì Francia sta avendo un grandissimo successo e quindi ragazzi io il fatto che ha avuto così tanto successo davvero è uscito inizio anno e hanno già annunciato la prima espansione e parlano di prima espansione e zombie mi va bene tutto di Tidal Blades Banner Festival sai nulla purtroppo no l'Enders ma me lo tra uno starnuto e l'altro me lo appunto e vado ad ad informarmi e ne parliamo la prossima volta sì ho visto che è uscita questa espansione per Tidal Blades però non non ho approfondito quindi me lo appunto grazie dell'info dicevo che anche in All 3 nel mondo di All 3 i nostri i nostri eroi dovranno affrontare tra le varie minacce anche quella dei non morti ci saranno quindi delle nuove avventure con nuovi componenti nuove carte per poter giocare quindi queste nuove avventure ci saranno robe che saltano fuori a tema zombesco e non morto come vedete anche nuovi segnalini con mani di cadaveri e questi guerrieri zombie guerrieri non morti guerrieri scheletrici che saltano fuori e quindi ne avremo nuove nuove avventure per adesso di questo ancora non so dirvi ho chiesto Mario ma non si è sbottonato non so dirvi se uscirà anche l'espansione di Oltre in localizzata in italiano se vi piace se vi vi diverte vi stimola vi acchiappa l'idea di giocare con i non morti il mio consiglio è il preordine di Oltre è aperto se vi facciamo vedere a Mario che pigliamo giù una marea di copie di Oltre e dirà vabbè allora se di tutti quelli che hanno preso Oltre prenderanno anche l'espansione magari ce la localizza non lo so non lo so poi se non lo fa non date la colpa ma io nel dubbio il preordinino su Oltre lo farei perché potrebbe essere alquanto interessante e con questo signori e signori io vado a concludere così la parte di news che ho trovato legate un pochino più all'estero ma io non avrei finito con le news ragazzi per quanto sia già le due io chiedo scusa ai piani alti che mi dicono fai un'ora e mezza e io poi invece sbrodolo sempre chiedo scusa ma andrei ancora un attimino avanti perché ci sono alcune news alcuni rientri che ci sono stati su Dungeon Dice dove vi ricordo sono ancora attivo a un sacco di offerte andate a dargli un'occhiata io non ci guadagno niente ma lo dico nel vostro interesse perché ho visto cose veramente veramente interessanti grazie a Impecorator che vi che vi piaccio che vi piaccio un po' così grazie grazie mille davvero di cuore però io in realtà avrei ancora qualche notiziola di qualche uscita in italiano che ho trovato e che quindi magari verrei a dirvi se vi va ma ditemi voi non vi voglio trattenere più del dovuto però io almeno la prima ve la voglio dire perché ora vedrete l'immagine in inglese ma sappiate che arriverà in italiano quest'autunno è stato detto e arriverà ho sbagliato ho sbagliato clicca arriverà taco party torta pacco pizza ed è già molto più incasinato di taco gatto capra cacio pizza ci ho messo una vita a impararlo questo è taco party torta pacco pizza è molto più scioglilinguoso taco party torta pacco pizza di cui per adesso vi ho trovato l'immagine in inglese ma esiste esiste grazie 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 schizo grazie alivi grazie morens il gioco è sempre lo stesso ok questa variante di io lo chiamavo si può dire merda quando ci giocavo a scuola o da bambino si girano carte e dicendo taco pacco torta party pizza ognuno dirà una parola e quando giro l'oggetto corrispondente alla cosa che ho detto tutti quanti mettiamo la mano l'ultimo che l'ha messa si prende tutte le carte ma 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 nuovi modi per rompersi le mani esatto è arrotarsi la lingua mentre si cerca di dirlo disegni sempre bellissimi sempre divertentissimi con quel taco che si mimetizza da pacco che è molto divertente e quella pizza che si ammuffa molto col cappellino da party e quindi molto balordi eh molto molto balorde queste immagini ma come in taco gatto capra cacio pizza avevamo la marmotta il gorilla il narvalo qua avremo l'unicorno la scimmia e il ninja oh se la scimmia mi immagino come possa fare che sarà fare tipo uh 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 prima di mettere la mano e il ninja il ninja mi viene voglia di lanciare le carte ma non è una cosa che propriamente si fa o dovrò fare what ah magari mentre metterò la mano o qualcosa del genere non lo so no what ah ci sta no mi sta anche un po' la posizione del ninja l'unicorno cosa cosa fa cioè perché il narvalo era già era già così il narvalo se mi rifanno che devo far così anche per l'unicorno mmm 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 non lo so non lo so secondo voi secondo voi cosa bisogna fare per fare l'unicorno bisogna fare non lo so le corna eh ma è un unicorno quindi ne ha uno di corno e il narvalo anche c'ha il corno cioè hai capito taglia il problema del perché ha scimmia dici u u u u scimmia ninja va a tono l'unicorno più che fare questo però è un po' come ripetere il narvalo perché poi uno volesse proprio aumentare la difficoltà no non puoi perché hanno i dorsi diversi le carte purtroppo se no era bello buttare dentro anche le i tre jolly dell'altro eh devi tirarti la testa sul mazzo invece che la mano per vincere bellissimo impeccorator bellissimo bellissimo assolutamente assolutamente ah devi fare il gesto delle corna ok ho capito ciao lucchino ciao 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 si si ma adesso adesso non vi voglio tediare tediare troppo oltre ma vi voglio dire che notizia che già si sa da un po' notizia che già c'è da un po' ma è uscita è uscita una una info in più è uscita una info in più che sono riuscito a scovare ovvero è uscito il dorso della scatola di star wars villanus perché come sapete l'annuncio è già stato fatto parecchio tempo fa famosissimo brand villanus della disney in cui i cattivi della disney si confrontano ed è già anche uscito il marvel villanus in cui i cattivi della marvel si confrontano non poteva mancare il esatto preorder già disponibile assolutamente sì non poteva mancare anche nell'universo di star wars che adesso assieme a marvel e assieme a disney appunto è tutto disney quindi ovvio ci sta ci sta questo qua assolutamente parecchio il gioco ma hanno fatto vedere il retro della scatola dove si iniziano a vedere alcune flancettine ma soprattutto sono viste finalmente decentemente le miniature dei dei villan magari appunto esce il gioco già le aveva viste già sapeva tutto ma io ci tenevo comunque a dirle anche a voi perché abbiamo ovviamente come tutti sanno come tutti sanno e tutti avranno riconosciuto noi chi sono chi sono i cattivi di star wars perché non ce n'è solo uno ma ce ne sono tanti ok e avremmo e avremmo io ora li conosco tutti dart vader facile assage 23 kylo ren questo so anche pronunciarlo giusto penso moff gideon e il generale grivi grivius 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 ok questi qua sono quelli grazie d'angio star bologna grazie io che come come è ovvio cioè come avete proprio capito sono un grande fan dell'universo star wars abbiamo fatto anche una live dedicata una sera sul parche star wars non ci piace pensavo docu e no 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 è il generale grivius eh grivius è il penultimo dall'ordine in cui gli hai scritti io li ho letti nell'ordine in cui sono scritti su bgg giuro non so chi è uno chi è l'altro conosco solo dart vader perché vabbè è famosissimo il secondo potrebbe essere kylo ren penso infatti kylo l'hai scritto anche tu e gli altri proprio non ho idea di chi siamo kylo ren so che è il nuovo dar vader della nuova trilogia tipo da episodio 789 penso ciao enio ciao 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 ehm invece è moff ehm la miniatura di kylo che riprende anche la spada è un capolavoro non l'avevo capito d'explora ammetto tutta la mia ignoranza ma i fan invece di star wars ehm capiranno capiranno bene chi sono e si divertiranno a schierare il millennium falcon contro i propri nemici ma più che il millennium falcon in sé vi faccio notare che questa è una carta veicolo perché c'è questa novità in questo star wars ovvero carte veicolo niente docu e niente maui per ora maul maul dart maul dart maul so qual è quello che la faccia rossa e nera tutta dipinta che muore in episodio qua 1 episodio 1 che è il quarto film uscito tagliato a metà da qualcuno e cade giù nel vuoto in un'astronave l'ho visto perché quello l'ho visto anche un paio di volte penso l'avevo visto al cinema addirittura quello lì quindi so chi è dart maul ma millennium falcon esatto sono il mio superaggio no però però di star wars non sono una fava ma conosco molto bene villanus e infatti ho notato cavoli i veicoli sono una roba nuova che non c'era negli altri potremmo spostare quindi i nostri personaggi da un dominio all'altro come già accadeva leggermente in marvel villano insomma potremmo farlo soltanto se ci saranno dei veicoli e questo veicolo essendo sfondo bianco quindi essendo una delle carte degli eroi che giocheremo tramite l'azier fatto contro gli altri giocatori e perché potremmo portarci via eroi buoni dai nostri reami e mandarli su quelli degli altri può essere perché abbiamo anche dei veicoli nostri di nostra proprietà che oltre ad aggiungere azioni al luogo in cui saranno secondo me ci permetteranno anche di muovere di spostare gli eroi che sono su quel veicolo cioè anche i nostri alleati che sono su quel veicolo chi lo sa? boh non si sa ma qualcosa sarà quando lo giocheremo lo sapremo perché pur non conoscendo l'advanced x1 probabilmente il gusto di giocarci comunque rimarrà perché la base è comunque un titolo che a noi è sempre piaciuto potremmo farci un clash su tutto dedicato volentieri ma io io vengo presenzio dart maul so che chi è che muore non mi ricordo chi lo uccide so che c'è danza washington che è l'unico con la spada viola perché perché la voleva viola e da lì hanno dovuto inventarsi del perché dei colori delle spade che se no era blu buono rosso cattivo lui la voleva viola e allora ha fatto casino so qualcosa poco ma qualcosa lo so che muore due esatto vabbè dai non può più essere uno spoiler un film che io ho visto al cinema che avevo 15 anni passati 20 anni che spoiler è ragazzi dai allora ma sempre rimanendo in tema villanus vi ricordo che è uscita anche questa già da un po' non ancora purtroppo in italiano e non ci sono notizie circa una localizzazione una possibile data di localizzazione la sesta scatola di disney villanus bigger and better visto che non te lo voglio fare io lo spoiler ah no vabbè chissà ritorna a dart maul non me fa niente non mi interessa quindi va bene anche saperlo non mi fa niente non mi fa niente esatto vedi vedi ma ve lo cito bigger and better perché è disponibile la versione inglese su dungeon dice ne hanno preso un po' di copie in inglese e quindi se punto dite vabbè non mi interessa aspettare un italiano non lo voglio in inglese sappiate che c'è e che è disponibile dove i cattivi utilizzabili sono lozzo da toy story sindrome da sindrome dagli incredibili e magamago dalla spada nella roccia allora vabbè valte magamago che vabbè vale il personaggio preferito di vale da sempre da tutta la vita quindi magamago forever and ever gli incredibili si cosa ho detto ho detto qualcos'altro war game gli incredibili no perché dicevo toy story gli incredibili sono i due della pixar che che io preferisco in assoluto a livello di cartoni toy story è meraviglia pura e gli incredibili io lo adoro mi è piaciuto addirittura il 2 figuratevi e e sono contentissimo che abbiano preso proprio loro ah grazie grazie il lag non è amico ok perfetto e appunto quindi avremmo lozzo il pupazzo il peluscione rosa cattivissimo da che potremmo utilizzarlo per cercare di portare a termine il nostro il nostro piano il nostro piano malvagio magamago che vabbè ci sarà sono curioso di magamago perché magamago non è un villain vero e proprio come possono esserlo gli altri due o tutti i villain usciti finora nel senso non è chiaramente un personaggio positivo non è chiaramente il protagonista buono della spada nella roccia ma se ci pensate ha poi una scena magamago cioè non è un villain trasversale a tutta quanta la trama magamago ha un'unica scena del combattimento bellissimo contro merlino ma che non è neanche poi il protagonista merlino perché il protagonista è semola sono curioso di vedere come l'hanno resa anche perché come alleati di magamago ci saranno le sue varie trasformazioni probabilmente e sarà e i vari eroi saranno probabilmente le varie trasformazioni di merlino boh non lo so sono comunque curioso di capire come l'hanno reso perché se tu prendi il principe Giovanni che è il villain di Robin Hood per tutta quanta la trama chiaro che esatto Disney fate le due grafiche brutte già il sindrome vabbè il sindrome è eccezionale è un bellissimo un bellissimo villain mi piace mi piace un casino perché mi piace tantissimo gli incredibili questa normale famiglia di supereroi che si trovano poi a combattere contro sindrome che non ha poteri sindrome non è un super è proprio perché era grande fan di Mr. Incredible e voleva essere il Incrediboy voleva essere il suo sidekick e lui non ha mai voluto per non metterlo in pericolo si vendicherà anni e anni dopo molto molto figo molto interessante sono comunque curioso e sempre a livello di roba che è arrivata in inglese perché in questo caso non arriverà mai in italiano sono rientrate alcune copie su Dungeon Dice di The Loop che è un collaborativo molto particolare basato tutto sui viaggi nel tempo non è uno spoiler Regno viene nei primi due minuti di film è il trailer è il trailer degli incredibili è il trailer è spoiler Regno su un film anche questo è uscito del 2000 com'è possibile farti uno spoiler su quello vedrai che di robe di plot twist sono un casino salutiamo Giulia perché si dice plot twist non si può non pensare a Giulia però vedrai che è figo però diciamo questo The Loop che è anche ritornato disponibile è un gioco di un dovremmo risolvere delle missioni che saranno le sfighe che ci farà capitare il dotto loop mi stai perculando d'accordo bellissimo modo per scriverlo lo avevo capito lo avevo capito noi dovremmo risolvere noi siamo dei viaggiatori temporali e dovremmo risolvere le magagne che fa questo dottor loop viaggiando nel tempo e creando questi loop temporali avendo vari oggetti è tutto basato su una terminologia molto anche ambientazione molto simpatica molto divertente cartunesca e la particolarità è che i settori in cui agirà il dottor loop in cui farà capitare robe brutte e noi dobbiamo cercare di tenere a sorte sarà dato da questo pirillo centrale che c'è che noi ruoteremo nel quale facciamo cascare cubetti rossi ma a tre scivoli e non sai mai in quale dei settori potrebbe finire e quindi devi cercare di prevenire le incursioni che farà il dottor loop cercando di portare a termine i suoi piani malvagi nel caso anche questo ha un po' di dipendenza dalla lingua come avete visto sulle carte varie che ci sono però è disponibile la versione inglese di pandasaurus anche su dungeon dice nel caso lo abbiate già sentito lo stavate cercando non era facile da trovare adesso c'è qualche copia c'è quindi se se già lo conoscevate o comunque vi è incuriosito vi piacciono i collaborativi vi piace l'ambientazione sapendo che lo prenderete comunque in inglese sappiate che comunque è disponibile e ultima cosa che anche vi dico che è rientrata ed è disponibile di summoner wars la seconda edizione titolo di cui già vi avevamo parlato vi avevamo parlato qualche qualche tempo fa in una puntata di giochi e giullari come un bellissimo gioco attiva magia in quanto noi siamo questi evocatori che evocano creature sul tabellone che poi vanno a combattere nel caso vogliate sul nostro canale youtube e seguiteci anche su youtube su tutti quanti i nostri social specialmente su telegram dove potete chiacchierare con noi chattare assieme a noi e chiederci cose varie con tutti quanti i volti che vedete qua sul canale di dungeon dice tv su youtube dicevo ciao abba che mono ciao ben arrivato su youtube trovate quella puntata in cui vi parlavamo di summoner wars e di questa seconda edizione di summoner wars finalmente stanno arrivando anche oltre al master set che già trovate disponibile stanno arrivando anche i set di espansione perché il gioco ovviamente si presta ad essere espanso tantissimo a poter introdurre un sacco di nuovi evocatori e di nuove di nuove unità che si danno sfida sul campo di battaglia e due team che hanno introdotto sono i cloaks quindi i mantellati gli incappucciati non saprei bene come tradurlo in italiano comunque questa grafica questi ragazzotti scansonati che vanno in giro a fare danni e gli skype spear avians ovvero questa razza di uccelli antropomorfi che vanno in giro per la mappa a fare danni ma al di là delle due scatole di espansione che sono uscite che trovate disponibili su dungeon dice se non avete il base prendetelo se ce l'avete le espansioni ben vengano per un gioco del genere non perché non abbiate a sufficienza di ore di gioco su summoner wars ciao fede ciao sei in ritardo un pochino ma noi siamo siamo ancora qua stiamo stiamo concludendo la nostra puntata ma potrai poi recuperarla tutta quanta o qua su twitch oppure direttamente poi anche sul canale youtube appena verrà ricaricata diciamo summoner wars gran gioco anche il fatto che siano arrivati alla seconda edizione che stiano portando anche nuovamente tutte le espansioni proprio indice del fatto di quanto sia figo di quanto già solo il base comunque vi dà tantissima variabilità chiaro che se poi lo giocate tanto avete voglia di variarlo ancora un po' avere dei mazzettini di espansione che con pochi euro vi portate a casa un nuovo set per poter giocare assolutamente è validissimo questo era davvero bellino molto tattico quando le truppe vanno in combo sul campo è una favola assolutamente si dense lore non è un lcg nel senso stretto della parola perché non è un living card game nel senso ti compri la scatola base e hai tutto per poter giocare un gioco skirmish in cui hai una meccanica particolare di costruzione del tuo mazzo ma che non ti dovrai costruire tu i mazzi sono già precostruiti per cui per poter giocare le carte dovrai comunque sacrificare carte dalla tua mano che saranno il mana con cui tu potrai evocare i tuoi mostri e diventeranno mana anche i mostri dell'avversario che riuscirai a distruggere il fatto è che ogni fazione è molto ben tematizzata sono tutte molto asimmetriche ognuna ha uno stile di gioco molto diverso poi se vuoi ti compri i mazzettini di espansione ma non a livello di lcg per farti un nuovamento on deck building di calazzini tanto per i bit non è che ti andrai a rifare i tuoi i tuoi mazzi di battaglia ma avrai semplicemente nuove razze con cui con cui giocare e con cui variare le partite mi ricorda qualcuno con i capelli biondi a punta e i draghi dagli occhi bianchi chi? non ho capito chi dance floor dragon ball no non ho capito capelli biondi a punta mi viene in mente dragon ball e draghi dagli occhi bianchi è sempre dragon ball si yugioh dice ennio ok non avevo capito ah drago rosso occhi bianchi drago bianco occhi rossi si ok è vero che aveva i capelli a punta ma non proprio biondi era più un castano chiaro è più un castano chiaro yugioh si ci ho giocato comunque si diciamo comunque il campo di battaglia è simile però qua le tue unità si muoveranno sul campo di battaglia a seconda di dove sarà il tuo evocatore il tuo evocatore potrà schierare in diverse parti ogni tipo di unità farà cose diverse tra cui anche generare nuove cose sul campo di battaglia e scopo del gioco è buttare giù l'evocatore dell'avversario però si diciamo diciamo che si ha un po' l'idea di schiermish su mappa è quella di yugioh è anche un po' alla base del magic ok no non ci sono miniature fede non ci sono miniature su tutte quante carte tutte quante carte è molto semplice molto immediato immediato poterci poterci giocare e signore e signori io vi ringrazio perché sono le due eventi quindi vi farei quasi che lasciarvi andare ma non andatevi a tutti subito perché innanzitutto vi ricordo questa sera alle 21 il loft con Giulia e Sivia dove si andrà a Hawkins perché questa settimana ricomincia e ci sarà la seconda parte della quarta stagione di Stranger Things di cui vi abbiamo anche parlato un po' nello scorso clash della scorsa settimana assieme a Zoltare vi invito ad andarlo a recuperare e poi vi ricordo anche domani sera alle 21 mi troverete di nuovo assieme a Vale che occuperà quella sedia che adesso è lì abbandonata che ci guarda e parleremo grazie Alice grazie Pabis vi ricorderemo appunto vi parleremo ancora un po' di giochi horror andremo a parlare se i giochi riescono a far paura come le serie i film riescono a inquietare come un libro ne parliamo domani sera alle 21 e Vale vi aspettiamo abbiamo un po' di aneddoti abbiamo cose da raccontare abbiamo incubi che Alberto ha fatto di notte urlando ma di questo ne parliamo domani sera ragazzi non mancate perché come sempre ci sarà un sacco da ridere ci sarà un sacco da divertirsi ma non andate via perché ora facciamo un ride andiamo a fare un ride speciale perché oggi è un compleanno speciale dei nostri amici di KS Gaming Life di Cappina e Stiglar e oggi è il compleanno di Stiglar stanno giocando Maniac Mansion di Day of the Tentacle e quindi andiamoli andiamoli a salutare augurando tanti auguri e portando i saluti da parte di Dungeon Dice TV con Next ci vediamo il prossimo lunedì io vi ringrazio per essere stati qua l'appuntamento con noi e con me e con Vale domani sera alle 21 grazie davvero di tutti eravate tantissimi troppa grazia grazie a presto ciao